Due imprenditori palermitani del settore delle pulizie sono stati arrestati questa mattina dai militari del gruppo di Palermo della Guardia di Finanza con l'accusa a vario titolo di bancarotta fraudolenta o messo versamento di IVA e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Disposti i domiciliari dal GIP del Tribunale di Palermo nei confronti dei fratelli Vincenzo e Liborio Abate, rispettivamente di 49 e 53 anni. Con lo stesso provvedimento sono stati sequestrati beni e somme di denaro per 650 mila euro e l'intero capitale sociale a relativi beni aziendali di tre società per oltre 1 milione e 700 mila euro. Le indagini svolte dagli investigatori del gruppo di Palermo nel corso dell'operazione Clean Up avrebbero fatto emergere un complesso ed articolato sistema di società come delle scatole cinesi pensato e realizzato da un'unica regia riconducibile ai due fratelli nell'ambito del quale, spiegano gli investigatori, le persone giuridiche coinvolte erano una la continuazione aziendale dell'altra con analogo oggetto sociale, soci e coincidenza di sedi operative ed asset aziendali. Gli indagati avrebbero svuotato e poi messo in stato di insolvenza l'impresa originaria fondata nel 1986 mediante la creazione di una rete di società formalmente controllata dalla prima e soggette ad una direzione unitaria da parte dei due imprenditori alle quali sono stati ceduti beni societari e rami d'azienda è coinvolta nelle indagini anche se non colpita dal provvedimento cautolare di oggi la madre degli imprenditori di 77 anni che era formalmente dal 2016 a capo della società poi fallita